Ciao a tutti, sono qui per ringraziare tutta la squadra del corso l'Italiano Essenziale. Prima di fare questo corso non parlavo niente di italiano. Sei mesi fa che volevo imparare italiano e non sapevo quale corso scegliere. Non sapevo se avrei potuto imparare in un corso online. E con l'Italiano Essenziale in quattro mesi ho fatto un colloquio di lavoro su Skype in italiano. Quindi in poco tempo già parlavo in italiano e mi sentivo sicura per parlare con un italiano. Posso dire che questo corso è buonissimo. Posso farlo all'ora che è meglio per me. Riesco a conciliarlo con la mia routine, la mia famiglia, il mio lavoro e ho tutto il supporto della squadra. Ho conosciuto Darius durante il corso di fare partire e poi ho iniziato a seguire tutti i video di Italica. Bene, il corso l'Italiano Essenziale è fantastico. Tutta la cura e l'attenzione di Darius è indescrivibile. Sono molto felice e mi sento realizzata. Come potete vedere sono qui in Italia adesso, a Milano. Grazie al corso l'Italiano Essenziale ho realizzato due grandi sogni. Parlare italiano e vivere in Italia come una italiana. Grazie a tutti. Un abbraccio. Grazie a tutti.